Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Uno di vita Mi scolpò un po', morbo Figlio di puttana, let's go! Cambiamo server Nice! Porca troia, porca! Nice! ci sta ci sta sono a favore boh si perchè puoi vederlo però let's go sfida fatta buono obiettivo portato a casa obiettivo portato a casa grandi applausi ma che cosa vuol dire ronny figa hardblacks scottrobel hardblacks squadrona che mi fai spezzare esatto ma io qui vado per la che cosa stai facendo che cazzo fai che cazzo fai signori mi provo a mettere in una rank ed no build con il fill oh mio dio vorrei vomitarmi addosso e spaccarmi la faccia sul vomito oh mio dio che cosa brutta che ho appena visto madre di dio madre mamma mia perchè Gesù è bravo Gesù mi fa incazzare la gente che figa sembra timida no problem lasciate la spacco contro il muro andiamo signori siamo concentrati per favore allora ragazzi eh ti va bene però vinco io let's go giocami il cazzo mi sembra giusto come cosa mi sembra giusto come e vabbè però dai c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua che io do sto entrando 67 craccato l'altro 60 craccato ti manca l'altro lo fai sì 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 così ha assolutamente più senso mi ha fatto malissimo a tutti e due tanto male anche al secondo sì sì minchia no no sono in casa direttamente e ti risuono quando sei pronto sì abbiamo tutto abbiamo tutto ragazzi un attimo di pazienza bravissimo 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 l'ho smirato io ci sta bunker non portarti in fondo un bunker usalo ce l'hai ce l'hai ce l'hai cazzo usalo ma cos'è che ridi coglione l'ho smirato io mica hai vinto te buongiorno root boy grazie dei 5 eh lo volevo mettere in zolo eh uno l'ho morto l'ho ucciso l'altro è scappato mi traite via se la ti vuole calmo ci sento davanti qua dammi un attimo un'occhiata che mi faccio lo shieldino la sto occhiando attenzione là che la te che picchia no no son giusto scudone 0 no si rotulano questo preparo il tarpe easy easy andiamo andiamo dato che con l'ultima benedizione è andata bene ora sono qui per chiedere un'altra merda ve ne dico come sempre tutta la classe dai eh perché il matchmaking delle ranc è sempre così lungo perché probabilmente dipende in che rango sei c'è poca gente che ha raggiunto il rango quel rango rango ma snappo eh bravo che cazzo ti devo dire torno a giocare alle mie solo perché io giocare così sinceramente mi sono già strarotto i coglioni anzi no no anzi è un cazzo torno a giocare alle mie solo perché questo qua ma ti pare che ma ti pare che io devo giocare con queste amebe del cazzo che meriterebbero di fare la fine del mio fottuto zerbino ovvero si è schiacciate tutto il giorno ma vaffanculo ma non riprovo un cazzo andiamo? invasati di merda che ti pushen in due e testa di cazzo che non c'hanno un'idea figa che bel connubio di partite wow che divertimento preferirei chiamare uno regalargli un blocco di mattoni e farmeli tirare mentre corro nudo in strada grazie me lo meritavo oh no ti gran pazzo yo wow 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 no ti grande pazzo sì però minchia raga ma basta ballare che dio caro ti faccio 9v1 ti prendo ti cago in gola ti apro il collo ti cipiscio dentro e te la ricuccio stavo andando tutto bene no people ok ok very good ha la potenzialità di muoversi con le sue mani lei non ha idea continua a pushare gente nonostante siamo in squad pronto confermo che sono cose che faccio sto scambando il davidone ciao davidone grazie di cuore hai visto mi buzzava di strano ciao davidone ci vediamo alla prossima ciao davide se ci vedete fa tre kill esatte se lui io l'ho già bannato sì allora ciao 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 a tutti allora